mi inizio il vlog così con un'anala un'anala che è stata messa così da Federico è stata molto accoccolata come potete vedere mi fa morire ma cosa ti ha fatto? ma chi è che ti ha messa lì così al calduccio nella tua tana? mi sembri più goduta che terrorizzata tu altro che bella la vita buongiorno ragazze buongiorno a tutti benvenuti in questo nuovo vlog sul mio canale e anche oggi giornata uggiosa ebbene sì il suolo è ancora bagnato però non piove quindi incrociamo le dita ragazze perché oggi siamo di compleanno c'è un compagno di Federico della sua scuola della sua classe che fa gli anni ci ha invitato al suo compleanno al McDonald's festeggerà quindi oggi faremo un salto a fargli gli auguri insomma così gioca con i suoi compagni e uscirò un pochettino prima per prendere un pensiero perché ieri diluviamo tanto per cambiare e in più era il nostro anniversario quindi non sono andata nei giorni scorsi proprio per questo motivo però sperando che non venga giù il diluvio universale andiamo oggi insomma usciamo finalmente di casa e niente ragazzi quindi questo è quanto stamattina ho fatto diverse stories su Instagram in cui vi ho chiesto un pochettino di cosine a me piace diciamo sapere un po' i vostri gusti non mi piace decidere tutto io ecco mi piace sapere cosa vi va cosa preferite cosa non preferite eccetera e quindi vi ho chiesto appunto visto che avevo in mente di fare un video sul discorso risparmio quindi come gestiamo risparmio in famiglia cosa facciamo per risparmiare ecco ho detto che ho pensato che fosse carino farvi un video in merito visto che diverse di voi mi hanno scritto appunto che l'argomento risparmio era molto interessante in qualche altro video ho pensato a questo per il momento siamo a 50 e 50 tra vlog e questo video sul risparmio quindi io per il momento ho iniziato il vlog perché altrimenti si aspettavo il sondaggio concluso non avevo più nulla da vloggarvi quindi in caso terrò questo vlog da caricarvi successivamente al video risparmio in caso vi incarri il video risparmio ma diversamente ve lo farò comunque ma più avanti ecco quindi questo è questo è quanto Federico sta facendo i compiti sì perché gli sto insegnando il discorso prima il dovere poi il piacere e devo dire che gli sta piacendo molto come cosa ogni tanto se ne scorda ma voglio dire a sei anni cosa bisogna aspettarsi dopo un po' di sei anni è normale che il suo primo pensiero sia giocare però gli piace questo discorso questo tipo di insegnamento perché comunque una volta che ha finito i compiti l'idea di essere libero ah ora posso fare tutto quello che voglio fino a quando inizio a scuola ho già fatto tutto gli piace gli piace la sensazione quindi glielo ho voluta trasmettere perché è una cosa che a me piace molto sono una che tende a levarsi sempre prima le le rotture e poi insomma non che fare i compiti sia una rottura soprattutto alla sua età però comunque lui la vedrà come una rottura e niente quindi lui di là che fa i compiti adesso finisco di sistemare quelle poche cose che mancano ho anche già fatto la doccia per quello che vedete il codone direi perché ormai sono talmente lunghi che mi viene una codona però li leggo appunto per evitare che si inumidiscano troppo visto che sono puliti e stirati poi gli do giusto una passata prima di uscire bene la parlantina c'è anche oggi io mi vado a muovere vado a finire le cosine anche perché dovendo uscire prima mi conviene darmi una mossa quindi ci vediamo la bottiglia ci vediamo dopo ragazzi oggi sto fumando veramente ho sistemato caso ho pulito caso mi sono sistemata io mi sono vestita ho stirato un po' ho sistemato un po' i capelli ho fatto il video sul risparmio che credo vedrete prima di questo video perché per ora il sondaggio vince il video risparmio in caso sarà il contrario e ora è tardissimo sono le tre ho un'ora per andare a prendere il regalino e andare al compleanno quindi ci vediamo dopo ragazzi mi fuma la testa aiuto buongiorno buongiorno e buona domenica tenuta a casalinga ovviamente perché potete dirlo voi in coro fuori è brutto e e niente stamattina mega mega pulizia infatti qua c'è l'aspirapolvere adesso voglio organizzarmi e trovare vedete se in casa ho qualcosa comunque voglio fare una cesta per per Nala con tutti i suoi giochini perché c'è un gioco suo in ogni angolo e visto che appunto ho letto che non è il massimo proprio per l'educazione del cane lasciargli i giochi a disposizione volevo fare una cestina una cosa carina da mettere nel mobile che ho di là in cucina o quello con i cubi e metterci i giochi dentro in maniera che quando vuole giocare o quando vogliamo noi insomma lì si prende è più ordinato ecco che rotolare per casa inciampare scivolare anche perché per me è un po' rischiosino già lo è per una persona normale io che sono anche incinta insomma meglio evitare palline per casa stamattina ho cambiato anche il copridivano ho messo già questo qua con ve lo faccio vedere meglio ho messo questo qua che avevo preso al supermercato c'era l'offerta a 10 euro potevo prendere due non tre due cuscini e quindi questo qua l'avevo archiviato messo via lavato e messo via per poi Natale però vabbè siamo ormai a metà novembre quindi lo espongo già volentieri poi ho messo quelli lì con i puoi e e il copridivano grigio insomma mi piace mi piace niente quindi questo è quanto e adesso sto preparando un prensettino rapido per me fede perché Riky è già andato via al lavoro e i compiti li ha già fatti ieri quindi è fantastico tra l'altro ieri non ho più vloggato perché non vi dico come sono tornata a casa perché ovviamente ho iniziato a diluviare e ero stremata sono arrivata tipo alle 6 mezza 7 a casa e però è stato divertente perché poi c'era un angolo genitori tutta una saletta per i bambini perché tanto sono tutti della stessa classe della prima elementare quindi si conoscono sanno già come autogestirsi diciamo poi c'era anche l'animatrice del McDonald's quindi loro sono stati per conto loro diciamo e poi c'era una tavolata di fronte a questa loro saletta in maniera che potevamo comunque tener d'occhio di genitori quindi sono arrivati comunque con un maxi vassoio con patatine crocchette di pollo e ho stuzzicato molto volentieri devo dire perché era tanto che non andavo al McDonald's e poi c'era vabbè la fetta di torta è stata proprio una bella festa mi sono divertita abbiamo riso tantissimo anche con le altre mamme quindi insomma mi ha fatto tanto piacere andare e e niente quindi ora penso al pranzo e ci vediamo tra poco salto temporale perché ci siamo messi a giocare a questo gioco qui delle biglie tranello eh tranello stavo leggendo la scatola però sì perché ormai è diventato un esperto di lettere sta imparando un sacco tranello bravo e volevo dirvi mi è venuto in mente prima che si fa tardi vi avevo messo una storia su Instagram in cui vi chiedevo se volevate vedere gli Amabiz gli ultimi che ho fatto in qualche stories oppure su su YouTube avete votato per la maggioranza YouTube quindi ve li volevo mostrare un attimino qui nel vlog anche perché non è che sono così tanti che stai facendo vai a fare la pipì quindi dicevo ve li mostro qui nel vlog perché appunto non è che sono così tanti però vi volevo far vedere quali ho fatto negli ultimi giorni tra l'altro c'è stato un sabato sera che ci siamo messi anche io e Ricky insieme a farli quindi ci siamo veramente divertiti è stata una serata diversa una serata relax con tu si che vales si tu si che vales e quindi un po' guardavamo la puntata un po' facevamo gli amabiz comunque bando alle ciance parto subito col farvi vedere cosa abbiamo fatto allora ho fatto abbiamo fatto la scritta Harry Potter che è veramente veramente molto carina per gli amanti di Harry Potter ho intenzione come dicevo anche nelle stories di Instagram di fare anche i personaggini della saga quindi piccolo Harry Potter Hermione eccetera quindi appena ho il rosa perché mi manca lo devo ordinare lo farò sicuramente anche le principesse poi mi manca il rosa il rosa carne per fare il viso poi ho fatto Sailor Moon Sailor Moon la luna splendida questa qui e ho fatto anche la sua gattina luna guardate che carina mi piace un sacco buon amore poi Ricky ha fatto questo mi sfugge il nome di questo personaggio ci credo si l'ha fatto proprio mi pare fosse anche il giorno di Halloween no no il giorno dopo forse il giorno dei santi vabbè comunque era ispirato forse per Halloween e non mi ricordo il nome gli ho detto fino a ieri ma non me lo ricordo comunque questo ho fatto il sushi guardate che carino questo è il preferito di Fede vero amore a lui gli piace un sacco questo sushi che ride e questo è il classico con il salmone poi voglio fare proprio tanti altri tipi poi ho fatto Alessandra sì come vi ho detto non ho al momento ancora rosa però guardate quanto è carina cioè è veramente caruccia col ciucciotto pensavo poi quando molto più avanti faremo il battesimo di fare io le bomboniere metterci dopo te lo spiego un po' lungo adesso e di metterci appunto qualche qualcosina tipo questo no qualcosa di così di questo genere ecco la sfera poké è fatta da Ricky sono stata brava a spiegargli come si fanno e appena iniziato mi ha detto ma quanta pazienza hai è vero soprattutto soprattutto quelli grandi tipo Sailor Moon stavo veramente schiumando ragazze ci va tanta anche topolino ci va tanta tanta pazienza a farli soprattutto se sono grossi come Sailor Moon finché sono piccolini tipo questi ti passa abbastanza veloce ma quelli lunghi ci va ore e pazienza comunque sfera poké e poi la fettina di pizza guardate che carina ovviamente si possono personalizzare se avete qualcosa che vi piace me lo potete dire io ripeto come ho detto anche su Instagram se volete sostenermi aiutarmi a mettere qualcosina da parte per Alessandra se volete fare qualche qualche regalino per Natale una cosina più simpatica che può essere un portachiavi posso fare una collana posso fare dei piccoli orecchini ovviamente non tutto si può fare come orecchini perché tante cose richiedono la grandezza come può essere il topolino come può essere Sailor Moon non è che si può fare una Sailor Moon così ad orecchino capite quindi ci sono cose che si possono fare altre no e poi si dopo muore un attimo poi ho fatto paperina questa qui e paperino ovviamente io amo follemente paperino è il mio personaggio Disney preferito poi vabbè questa qui era una prova ho fatto la sirenetta però ne ho viste di più belle diciamo che preferisco quelli con il bordo nero come appunto è stata Sailor Moon vedete come cambia sembra più in 3D senza bordo e secondo me più brutto cioè è bello comunque ma non è la stessa cosa poi vabbè avevo fatto Joker ma avete già visto l'avevate già visto ho messo anche il portachiavi perché era per Riccardo e poi Federico mi ha fatto questo Fede ha fatto questo e poi vabbè questi li avevano già visti amore li avevo già fatti vedere il cuoricino questi qua sono quelli che avevamo fatto proprio all'inizio inizio che poi mi sono ispirato e ho fatto proprio personaggi e niente quindi questi sono quelli questi sono quelli che ho fatto al momento e se appunto avete dei desideri per Natale o cosa voi scrivetemi sempre su Instagram perché ragazze su YouTube non c'è diciamo il botte risposta invece su Instagram possiamo sentirci in direct è molto più comodo quindi se volete dirmi qualcosa in merito ovviamente li posso anche spedire senza problemi e niente quindi ora finiamo la partita tra l'altro ho perso un sacco un sacco di tempo per cui l'ho detto salto temporale perché mentre lui dormiva ho fatto la nuova sigla del canale ho voglia di cambiare un po' poi magari mi stufo e rimetterò quella vecchia non lo so poi sicuramente con i vlogmas farò una mini sigla più natalizia questa è provvisoria però spero che vi piaccia la troverete già l'avrete già trovata all'inizio di questo video quindi fatemi sapere se vi piaciucchia e niente quanto blatero 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 ciao ciao salutiamo che dici salutiamo già il vlog chiudiamo perché non guarda che c'è un capello qua vieni qua perché non prima due minuti del gioco vuoi filmare due minuti di gioco vi facciamo vedere la nostra partita vediamo chi vince spero che vinco io sì mi prego vincerò sicuramente io fate qualcosa fate qualcosa vince sempre lui comunque non vorrei dire ma ho vinto perché ci sono solo le mie biglie viola le sue rosse sono magicamente cadute giù ciao ciao fede eh sì però poi meno male che si tirano su da ah sì sì ci sono queste taschine che si tirano su queste porticine mamma come dici tu chi vince chi vince si stema le biglie che fortuna ragazzi io vi saluto qua chiudo il vlog così poi ho tutto il tempo per editarlo e caricarvelo a un orario decente spero che il vlog manca un montone poi guarda lei fa fuori un grande in miniatura e spero che il vlog vi abbia tenuto un po' di compagnia che vi sia piaciuto se vi va lasciate un like se appunto vi è piaciuto se vi va condividete il video e e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi mi raccomando un bacione ciao ciao